Ormai Trieste è diventato un far west. Bande di criminali girano indisturbate per la città, non permettendo ai nostri cittadini di vivere sicuri e circolare liberamente sul territorio del nostro comune. Bisogna intervenire, non bisogna ovviamente continuare con le politiche del PD, della sinistra, di Renzi, della Saracchiani e di Cosolini, che nella sostanza vogliono lasciare impuniti i criminali e mettere per ora in pentaglio la sicurezza dei nostri cittadini. Noi stiamo pensando di organizzare qualsiasi tipo di iniziativa per sensibilizzare la popolazione, anche per esempio delle ronde sul territorio comunale che possano contrastare questi fenomeni e sollevare il caso, perché ormai è diventata una situazione inaccettabile.